E' stato costituito anche sui Nebrodi il coordinamento di Articolo 1 Movimento Democratici e Progressisti. L'obiettivo è ricostruire il centro-sinistra anche in provincia di Messina, dopo le vicende del PD nazionale e provinciale che, secondo i promotori del nuovo movimento, hanno messo in crisi la prospettiva del centro-sinistra in Italia. Questi i componenti del coordinamento provvisorio dei Nebrodi, che avrà il compito di avviare la fase costituente nei vari comuni, Marcello Corrao, Nino Cappa, Salvatore Sinagra, Francesco Moscato, Antonello Merlo, Alessandro Giordano ed Elisa Fiorentino. Abbiamo già fatto una prima assemblea molto partecipata con esponenti di tutti i comuni dei Nebrodi, di una quindicina di comuni nei quali c'è gente interessata a questo nuovo progetto, consiglieri comunali, dirigenti politici. Abbiamo fatto questo coordinamento per mettere in campo una serie di iniziative che spieghino alle persone i motivi veri di questa nostra scelta. Guardi, io sono stato un dirigente politico nel PD fino a qualche settimana fa. Il Partito Democratico in tre anni ha perso oltre 3 milioni di voti, di gente che non condividendo la politica, basta pensare agli insegnanti, al mondo della scuola, ha abbandonato il PD e o non va a votare o si è consegnata ai populismi tipo grillino. Noi abbiamo una grande ambizione, riportare queste persone nel centro-sinistra. Noi vogliamo parlare a tutti, non siamo il ghetto riservista indiano che oggi ci consente di sopravvivere in una democrazia manipolata. Noi ci batteremo contro, noi ci batteremo contro per quanto riguarda i voucher e questo referendum che è stato posto alla data del 28 di maggio. Se non viene una profonda modifica, noi ci vedrete in prima fila nei mercati e nella gente.